In questa puntata di Unicam News parleremo di farmaci antidiabetici contro l'alcolismo, di una iniziativa dedicata alla conciliazione e delle iniziative di Unicam in occasione di Herpton 2011, infine la nuova edizione di Unicam's Got Talent. Ben ritrovati dalla redazione di Unicam News, abbiamo sentito gli argomenti che affronteremo nel corso di questa puntata e allora possiamo iniziare subito con il primo servizio. Farmaci antidiabetici per curare l'alcolismo, è questo quanto scoperto da uno studio condotto dal gruppo di ricerca coordinato dal professor Roberto Cicco della Scuola del Farmaco dei Prodotti della Salute di Unicam e realizzato in collaborazione con l'azienda farmaceutica americana Omeros e i ricercatori americani del National Institute of Health. Il trattamento con plioglitazone, un farmaco comunemente utilizzato nella terapia antidiabetica, ha infatti dimostrato efficacia nel trattamento della dipendenza da alcol. Lo studio, appena pubblicato dalla prestigiosa rivista americana Biological Psychiatry, ha dimostrato che ratti geneticamente selezionati per la loro innata predisposizione ad abusare di alcol, se trattati con questo farmaco antidiabetico, bevono meno, mostrano una riduzione dei sintomi astinenziali e manifestano una riduzione delle ricadute. Ma ascoltiamo il professor Cicco Cioppo. Nel 2006 abbiamo condotto i primi esperimenti che sono stati poi, che hanno continuato per tutto questo periodo, fino a che proprio pochi giorni fa è uscito l'articolo scientifico. Un lavoro fatto qui da noi, oggetto della tesi di dottorato di una giovane collaboratrice, Serena Stopponi, che per anni si è dedicata con energia a questo lavoro. I risultati sono stati particolarmente importanti, rilevanti, tanto che nell'arco degli anni abbiamo stabilito dei rapporti di collaborazione molto significativi che ci hanno permesso di sviluppare questa idea. Parlo di collaborazioni con un'azienda farmaceutica americana, Lomirus, e con il National Institute of Drug Abuse, che è l'organismo americano governativo che si occupa dello sviluppo delle terapie per la tossicodipendenza, della politica per le tossicodipendenze. I risultati ci hanno portato a questa bella pubblicazione dove abbiamo pubblicato i dati preclinici, abbiamo qualche dato preliminare di tipo clinico che ci confermano l'efficacia nei pazienti, nei pazienti alcolisti. Siamo comunque molto fiduciosi e speranzosi che questa classe di farmaci possa diventare un nuovo strumento per aiutare chi soffre di queste patologie. Chi è il mediatore? Come funziona una procedura di conciliazione? Come gestire in modo soddisfacente una controversia nel settore turistico? A queste e ad altre domande ha dato risposta la professoressa Lucia Ruggeri nel corso di un laboratorio dedicato all'adozione di procedure alternative al ricorso al giudice svoltosi nei giorni scorsi presso la scuola di giurisprudenza. A partecipare otto studenti dell'Istituto Tecnico Statale per il Turismo Marco Polo di Rimini accompagnati dal loro professore Vincenzo Zazza. Gli studenti che nel loro percorso scolastico privilegiano lo studio del mercato del turismo sono stati chiamati ad affrontare il caso di un danno da vacanza rovinata. I ragazzi hanno avuto a disposizione alcune informazioni relative alla disciplina nazionale comunitaria ed internazionale in materia di viaggi tutto compreso e poi sono stati chiamati a simulare una procedura di mediazione. Il caso simulato ha coinvolto gli studenti in modo divertente e didatticamente proficuo consentendo una verifica delle conoscenze normative ma anche delle abilità e competenze di tipo comunicativo e negoziale. La scuola di giurisprudenza di Unicam è infatti da tempo sede accreditata di corsi per mediatore professionista nel settore civile e commerciale. In occasione di Herpton 2011, l'originale maratona culturale per la conservazione degli anfibi ed erettili che è stata celebrata in tutta Italia, anche il Museo delle Scienze di Unicam ha voluto proporre alcune interessanti iniziative. Nel corso della mattinata, dopo la presentazione dell'evento a cura di Massimo Capula, biologo e zoologo del Museo Civico di Zoologia di Roma, il naturalista e fotografo Gabriele Achille ha tenuto un incontro dedicato dal titolo Rettili e anfibi di casa nostra a conoscerli per proteggerli, al quale hanno partecipato con grandi interessi i ragazzi delle scuole della città. A chiudere la giornata il seminario tenuto da Mario Marconi, biologo del Museo delle Scienze di Unicam, sul tema dell'ecologia e distribuzione di due specie a rischio, il caso della salamandra pezzata e della vipera dell'Orsini. Torna anche quest'anno la nuova edizione di Unicam's Got Talent. Pensi di avere un talento nascosto e vuoi mostrarlo? Sai cantare, ballare o recitare? Sei semplicemente un fenomeno? Unicam's Got Talent è lo spettacolo che fa per te. Organizzato dal comitato pari opportunità di Unicam, Unicam's Got Talent è uno spettacolo di beneficenza in programma per il prossimo 31 maggio al Centro Culturale Benedetto XIII di Camerino. I fondi raccolti serviranno per finanziare una borsa di studio per approfondimenti, tesi di laurea su temi e aspetti dei paesi in via di sviluppo. Possono partecipare gli studenti iscritti agli Atenei di Camerino e di Macenata ed è necessario inviare la propria adesione entro il 4 maggio. Tutte le informazioni sono disponibili nel sito www.unicam.it. Saranno assegnati ricchi premi ai vincitori. E allora, studenti, non aspettate, partecipate, divertitevi e divertite. E con questo siamo giunti al termine anche di questa puntata di Unicam News. L'appuntamento è per mercoledì prossimo alla stessa ora e vi ricordo anche che tutte le informazioni che desiderate sull'Università di Camerino le trovate nel sito www.unicam.it. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con i nostri programmi. www.unicam.it. Grazie per essere stati con i nostri programmi.